Amichevole che si disputa tra gli uomini di Troncone e Maya Bianca E i ragazzi Maya Arancio di Antonio Mariconde e soprattutto Tiziano Orlando Che è stato protagonista di una grandissima azione terminata con un gol spettacolare da parte sua E soprattutto adesso si ferma, vediamo come il gioco continua E la parata del portiere Sorbo e poi il gol Cognome? Qual è il cognome? Javarone Segnato da Javarone, 7-2 7-2 Che vuoi? Sono là Enzo Che bello quando ha torto Hai torto Hai detto una cazzata? Con l'indestra colpisce un avversario Ma che cazzo sto dicendo qua Oh cazzo Oh Ancora palla filtrante La chiusura di Antonio Mariconde non è fallosa E angolo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie.